Il 10 è un numero magico. Nel calcio è il simbolo della classe cristallina, del talento, della fantasia. A scuola è il massimo voto che si può conseguire. Tra qualche giorno, il 10 sarà anche il nuovo numero di RTV38. Il settore radio e televisivo locale sta vivendo una vera e propria rivoluzione che nella nostra regione avverrà a partire dal prossimo 25 maggio. Una rivoluzione resasi necessaria per consentire lo sviluppo delle nuove tecnologie della telefonia mobile, il 5G, che ha portato lo Stato a riorganizzare completamente l'intero comparto. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha così stilato una graduatoria che ha preso in considerazione una lunga serie di parametri per assegnare la nuova numerazione. Sotto ai raggi X della Mise sono finiti il numero dei dipendenti, i giornalisti, la storicità del marchio, la qualità della programmazione e gli ascolti registrati da tutte le televisioni della regione. Tutti elementi che hanno portato RTV38 nettamente in testa alla classifica, con un distacco di oltre il 35% rispetto al secondo classificato, ottenendo così il miglior numero disponibile, il 10 appunto, subito dopo le emittenti nazionali. Nei prossimi giorni verrà diffuso il calendario preciso degli switch-off nelle varie aree della Toscana. Per ricevere il nuovo digitale terrestre basterà fare una semplice risintonizzazione del televisore. Da quel momento in poi RTV38 sarà sul 10, il numero del talento, della fantasia e della qualità.